Il futuro sarà quello di una strada che risolverà molti problemi di viabilità. Poi ci saranno mille alberi in più che noi pianteremo nella zona della Pineta. Ci sarà l'eliminazione dell'attuale strada che collega la tangenziale con le vie limitrofe, in modo da recuperare molto spazio per il parco. Quindi certamente un miglioramento della viabilità. Poi per quanto riguarda le piante che il piano di assetto naturalistico, che noi abbiamo trovato perché il piano di assetto naturalistico è legge regionale e viene da molto lontano, viene dal 2009. Per quanto riguarda quel piano e quelle piante che dovrebbero essere eliminate in base al piano, noi cercheremo di salvarle il più possibile. Alcune le ripianteremo, altre ovviamente dovremo sacrificarle, ma al posto di quelle poche piante che sacrificeremo ce ne saranno mille in più perché l'equilibrio che gli altri avevano trovato con 170 piante, noi invece lo portiamo a mille piante. Rilanciamo perché Pescara ha bisogno di verde, ha bisogno di piante e noi ci stiamo muovendo proprio in questa direzione. Non so quanti ce ne sono di alberi secolari che saranno eliminati e se saranno eliminati saranno veramente pochissimi perché li andiamo a controllare uno per uno. Ma quegli alberi che si eliminano sono quelli che rientrano all'interno di una programmazione del PAN fatta dal 2009 al 2019 ed è stata questa programmazione studiata da ambientalisti che sono Giovanni Damiani, Giancarlo Doardi e tutte queste operazioni sono state puntualmente seguite da tutte le associazioni ambientaliste in comune e in regione. L'obiettivo nostro è proprio quello di salvarle per quanto possiamo e di ampliare il numero delle piante che noi inseriremo nella pineta. Certo è chi ha deciso quel percorso, evidentemente lo ha deciso perché era l'unico percorso possibile e siccome io ho la garanzia che quella decisione è stata presa da eminenti ambientalisti e ovviamente il punto di equilibrio in una situazione in cui c'è una città che si muove e che deve rispettare interessi diversi noi cerchiamo di rispettarlo tutelando tutti però le opere che si devono fare in questa città si faranno.